Inaugurata la prima area amici a quattro zampe della provincia all'interno del parco di Castel Sindici di Ceccano, uno spazio in cui i cani, accompagnati dai patroni, potranno godere di un'area attrezzata. Per l'occasione l'amministrazione comunale ha organizzato un weekend a quattro zampe. La città di Ceccano compie un balzo in avanti nel futuro, infatti inauguriamo questa mattina la prima area dedicata agli amici a quattro zampe, un'area sgambamento dove i nostri amici pelosi possono correre liberamente, è un'area che ha un regolamento ben preciso, che verrà autogestita dalla cittadinanza, ovviamente sotto il controllo dell'amministrazione comunale e dei vigili urbani. Un punto fondamentale nel nostro programma, del quale mi ero fatto promotore personalmente. A distanza di pochi mesi quest'area diventa realtà. La politica dei fatti, la politica delle parole che diventano fatte, ceccano finalmente da comune che magari inseguiva, è diventato un comune apripista, avanguardia nel panorama provinciale e regionale. La volontà è quella di costruire una città nuova e a misura di tutti, proiettata verso il futuro. È un momento anche importante per ripartire. Abbiamo i ragazzi della banda Bartolini che ci hanno deliziato con l'inno d'Italia e ringrazio anche per la sua presenza il senatore Massimo Ruspandini e il consigliere regionale Chiara Colosimo. La nostra è un'amministrazione che sta portando avanti, nonostante il periodo che abbiamo attraversato, tutto quello che era scritto sul programma elettorale. Nei prossimi mesi ne vedremo altre. Domenica ci sarà una festa per famiglie, bambini e per tutti gli amanti dei cani che potranno assistere a un dog show. Madrina d'eccezione è la conduttrice televisiva Licia Colò. C'è una esigenza ormai rilevante, ormai palpabile, di vivere la natura, l'ambiente, i nostri animali, in questo caso i cani, i migliori amici dell'uomo, in maniera più compiuta. E Ceccano, grazie all'assessore Riccardo Del Brocco, si pone all'avanguardia proprio a livello di sensibilità. Le cose si fanno sempre in due. La parte politica deve in qualche modo costruire un'offerta adatta ai bisogni, alle esigenze di una cittadinanza che però deve essere necessariamente attiva e responsabile.